buongiorno a tutti dal gusquet buonasera a tutti dal gusquet caro Elkran ti scrivo e un messaggio ti manderò allora questo incipit è perché volevo parlare un attimino del problema problema del fatto che il governo italiano nei giorni scorsi ha avuto un po di attriti con il gruppo Stellantis in merito al fatto che il gruppo Stellantis a nome di Carlo Stavares che è il dirigente e l'amministratore delegato del gruppo ha preteso dal governo italiano un aumento dei incentivi sulle auto elettriche perché appunto in Italia ad esempio vengono vendute pochissimo c'è crisi di mercato ma il motivo per cui ha chiesto questi incentivi è anche per poter aumentare la produzione di auto in Italia almeno quello che ha detto Tavares ma il governo ha detto che gli incentivi li darà solo e soltanto se le produzioni verranno fatte in Italia da un certo punto di vista non fa una piega il discorso anche perché prima di tutto non è che gli incentivi vengono fatti mirati per le auto italiane gli incentivi dovrebbero essere fatti per la vendita delle auto in generale cioè indipendentemente da quello che compro so che posso avere più o meno di incentivi per poter favorire la vendita di un certo tipo di auto in questo caso elettrica ma non farò mai incentivi che dicono se compri una fiat ti do 10 mila euro se compri una Volkswagen te ne do 3 mila no incentivo è quello punto e basta poi sarà lucrante scegliere la macchina ma allo stesso tempo se il produttore nel qual caso Stellantis producesse auto elettriche in Italia probabilmente gli italiani piano piano con gli incentivi verranno le comprano queste macchine no perché se le produce da qualcuno le dovrà può comprare se fai dei modelli validi dovrà può comprarli il problema che il buon Tavares come anche il buon Elkan tra virgolette non sta producendo macchine elettriche in Italia o perlomeno ne producono una da 500 e anzi prodotta già prima prima che ci fosse la fusione del gruppo Stellantis quindi Tavares non c'entra niente però producono una sola macchina poi ovvio colpe neanche il gruppo il gruppo FCA che nel frattempo non ha mai prodotto auto elettriche o almeno ne ha fatte pochissime solo negli ultimi nell'ultimo anno e mezzo prima della fusione ha cominciato a produrre qualche ibrida e qualche ibrida plug in ma proprio perché era obbligato dalle leggi europee per non pagare delle multe ma se no se poteva non ne faceva perché non aveva di fatto una tecnologia pronta a basso costo adesso che invece hanno fatto la fusione e che il gruppo FCA comunque nel bene e nel male ha una piattaforma la CMP creata apposta per poter produrre auto elettriche ibride o benzino diesel diciamo che ha una base che può produrre diversi modelli e produrli con costi di produzione più bassi in teoria ma allo stesso tempo cosa succede che la produzione l'ultima di Stellantis in merito ai marchi italiani ovvero Avenger 600 e Y e la futura Panda verranno prodotte all'estero e visto che questi modelli verranno presentati e venduti in un primo tempo sono elettrici come possono pretendere il governo italiano di incentivi aumenti gli incentivi per le auto elettriche quando la stessa Stellantis le auto elettriche che può vendere in Italia le produce all'estero almeno uno di questi modelli avessero prodotti anche due in Italia magari male non faceva invece in Italia a parte la 600 e la 500 elettrica non hanno nessuna elettrica pura hanno praticamente la compass e la renegade in versione plug in la tonale versione plug in che poi fa parte dello stesso diciamo piattaforma hanno poi da 500 x la renegade e la compass in mind hybrid la tipo che viene prodotta in turchia ma in turchia ma lei è sempre stata prodotta di là quindi in Italia praticamente elettrico puro ho tolto da 500 non c'è niente poi c'è forse un modello della maserati della grecale ma non fa testo sono pochissimi modelli quindi diciamo che in influente ecco il discorso è quello cioè tu pretendi dal governo una cosa e poi però ne fai un'altra perché praticamente la produzione la produce l'estero delle macchine elettriche e in più non hai garanzia della produzione futura per l'Italia perché parliamoci chiaro la produzione attuale di auto in Italia del gruppo FCA Stellantis è tutta scadenza no perché praticamente abbiamo Maserati che produce pochissimo e non si sa cosa farà alcuni modelli addirittura sono stati bloccati attualmente ha venduto addirittura uno stabilimento quello di Grugliasco la 500 e praticamente vendicchia forse adesso tentano di vendere anche negli Stati Uniti ma secondo me non avrà tutto successo che dicono perché è una macchina particolare non è detto che prenda piedi in America già aveva provato marchionne con la 500 elettrica per la California ma è stato un bagno di sangue era stato obbligato dei regolamenti però poi alla fine hanno venduto pochissime mentre altri modelli in Italia cosa stanno facendo allora una berlina due volumi tipo l'appunto non è più fatta già da anni era già stata eliminata dalla Fiat prima non si sa se faranno un appunto che in futuro la Panda che adesso si chiamerà Pandina verrà ancora prodotta in mono versione mi parla avrà capito fino al 2027 e poi dopo non si sa dove producono 500 x renegade e compass entro 2028 non fanno più niente di quei modelli lì infatti la 500 x già nel 2026 non verrà più prodotta e quindi renegade e compass verranno dismessi gradatamente al loro posto poi non si sa cosa fanno forse dovranno fare una lancia penso la gamma dicono una di esse non so di che modello e forse un'altra Jeep però su tutti i progetti futuri non si sa da qual 2027 non si sa cosa succede a pomigliano appunto abbiamo detto che la Panda fino al 2027 verrà prodotta e poi verrà dismessa anche perché è un modello troppo vecchio no al contempo il tonale che ha una tecnologia simile al compass e renegade tirerà avanti più o meno fino a quel periodo lì e poi dovrà venire a essere sostituito perché comunque la piattaforma piacchiotta anche quella e non si sa cosa fanno dove producono stelvio giulia probabilmente ancora per quest'anno e credo che dal 2026 sarà il cambio generazionale ma non si sa bene se faranno di nuovo una giulia una stelvio o se faranno altri modelli non si sa di giulietta ma non si sa praticamente si è un po nell'ombra no quindi come fanno a pretendere questi signori dal governo italiano un aumento dei incentivi diventa difficile aumentare gli incentivi cioè se tu mi dici invece sì sì io nel giro di tre anni ti produco questi modelli nel giro di un anno cominciano a produrre il primo modello elettrico in italia che vado avanti scaglioni a tappe forzate allora sì che magari il governo poi sarà incentivato a dare dei dei incentivi perché vede che comunque la produzione aumenta la gente comunque la cosa insomma mantieni le fabbriche ma adesso in questo momento cioè se calcoliamo che quattro modelli elettrici nei prossimi due anni verranno prodotti all'estero per carità la panda verrà prodotta in serbia no in slovenia voglio dire le altre vengono prodotto in polonia e una in spagna va bene in polonia venivano già prodotte prima in slovenia i den compattate da 500 l però va da sé che in italia abbiamo tutte produzioni vecchie quello problema cioè le produzioni moderne recenti sono prodotte all'estero in italia non viene prodotto nulla di modello di più recente su tutti i modelli già preesistenti che andranno a fine vita e probabilmente saranno modelli che saranno sempre meno richiesti perché io da utente se devo cambiare la macchina devo comprare una macchina fiat nuova prima che vada a vedere la 500 x anche se poi più bella come l'estetica andrò a vedere magari la lancia y andrò a vedere la venger andrò a vedere la 600 anche se non mi piace perché sono più moderne se ho intenzione di avere una macchina che mi duri nel tempo e che mi permetta di circolare non vado a prendere una macchina già vecchia in partenza cioè il discorso anche quello quello discorso e quindi non lo so caro elkan cosa dici cosa 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 mi rispondi io da utente che ho sempre comprato fiat non sono molto contento ciao a tutti